Ciao Pino, sto sul divano senza lavoro da sei mesi perché quegli stronzi dei politici non si sanno mettere d'accordo e qui a Pistoia dove vivo, sembrano trovare lavoro solo gli albanesi, ma si poteva andare avanti così E adesso gli trema il culo, hai capito? A questi gli trema il culo adesso perché hanno paura di non trovare più la poltrona sotto al culo Maroni ha vinto nella Lombardia con questa sua arroganza, innanzitutto con la Lega avete perso, non so quanto avete perso di voti perché la gente ha capito che siete come tutti gli altri e poi dopo che avete demonizzato Berlusconi, basta con Berlusconi adesso per andare, per avere ancora questo potere, ancora quest'alleanza col Pdl un'altra volta e con quale coraggio poi vi presentate in televisione, ditelo almeno, no? Ditelo! Che per fare quello che volete dovete andare dove dovete andare Ma lo diria io dove dovete andare Jack!